La Sirica Savellino riparte dal duo Alberani-Sagripanti per i ruoli di direttore sportivo e di capo allenatore. Accelerazione doveva esserci, accelerazione è stata in avvio di settimana. Si attendevano solo le ufficialità arrivate in mattinata e che determinano il nuovo corso in casa Scandone. Il neo-DS e il neo-tecnico dei Biancoverdi saranno presentati congiuntamente alle 18 nella sala stampa del Pala del Mauro. Forlivese, 40 anni, Alberani ha iniziato la propria carriera da dirigente nel 97 nella sua città con la Libertas. Dopo due stagioni ha intrapreso la carriera da agente, rientrando nel 2009 con un ruolo da dirigente dalla Fulgor Libertas Forlì. Dopo un buon triennio in Romagna è approdato alla Virtus Roma con il ruolo di general manager. Nella capitale Alberani è stato protagonista con una finale scudetto, una semifinale playoff e due qualificazioni alle Final Eight. Ora il trasferimento da Avellino dove Alberani condividerà le scelte per l'allestimento del nuovo roster con Pino Sacripanti, nuovo capo allenatore dei Biancoverdi. Canturino classe 70, Sacripanti ha iniziato la propria carriera da allenatore nella sua città guidando Cantù per ben sette stagioni. La firma con Avellino determina il ritorno in campania del tecnico Lombardo che dal 2009 al 2013 ha allenato la Juve Caserta. Nel 2010 con i bianconeri ha raggiunto la semifinale scudetto accedendo all'Eurolega, mentre l'anno successivo ha raggiunto i quarti di Eurocup ad un passo dalle Final Four. Nelle ultime due stagioni ha guidato l'Acqua Vida Senella Cantù chiudendo nell'ultimo torneo in gara 5 di quarti di finale contro Venezia. Dal 2006 anche l'head coach dell'Italia Under 20 con cui ha vinto l'Europeo in Estonia nel 2013 ed ha chiuso al nono posto l'ultima edizione a Lignano Sabbia d'Oro. Grazie a tutti.